il mondo cambia se lo notiamo noi che guardate se lo notano loro eccovi a voi un nuovo animale domestico di casa che non sembra riconoscere ostacoli ma ripulisce raga pulisce benvenuti a tutti anche nuovi iscritti ragazzi guardate questa stazione qua sendai hanno riprodotto la costellazione e automaticamente tutti quanti orione a tutta la costellazione come dovessi che figata sta stazione andromeda la mia pesce sono da febbraio arriverà una sorpresa enorme raga per il mio compleanno per il video del mio compleanno raga vi condivido con voi una cosa proprio che non potete immaginare me la nuova camera che non diamo manco spinge il bottone realizza la faccia e comincia a filmare ragazzi vi porto un ristorante fatto da giapponesi ed indiani ristorante indiano buonissimo l'indiano è un'alternativa ottima per chi è vegetariano mi dono un'idea di come viene inteso e fidatevi solo di un ristorante dove il personale che cucina deve essere di origine indiana perché la passaggiate e testate i veri sapori indiani questo è il nostro poterito a pranzo mila ien costa buonissimo questo è il nostro poterito a compara ovunque buonissimo 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 qui In questo, carne, questo è quello con solo le verdure, questo è quello con il pollo, poi c'è il formaggio, ragazzi, è una bomba, questa cosa è un'ingrassatola a guardarlo, e io questa cosa, con il riso, un extra nome è 100 yen, beh, come la vedete la cosa? La cosa bella di sto ristorante è che come si entra, vedi la cucina tutta all'interno, c'è una vetrata, si vede tutta la cucina come è fatta dentro, cioè non te puoi, cioè non ha nascosto niente, è pulito, per essere molto ristante indiano, molto oltre che non c'è ristante, indiani non sono proprio puliti, sinceramente tu vedete dentro come preparano la roba, cioè non è che la vedi a distanza chilometrica, ristante c'è una ventina di posti a sedere, cioè non è molto grande, però questa è una cosa, si mangia veramente bene, gestito da indiani e giapponesi, credo che le donne che lavorano dentro siano le mogli, non i giapponesi, però in cucina ci sono indiani che preparano la manciata, cioè si mangia veramente bene. E non te lo prendi il caffè a scrocco, e che cavolo, e non me lo prendi il caffè a scrocco, pieno di cioccolate per San Valentino, come se non ci fosse in domani, no ragazzi, guardate cosa ho trovato, no, il kinder bueno, cioè, il kinder bueno, che è San Valentino, ma se no con il cavolo che ci arrivava qua in Giappone, 180, 200 yen uno, male furto proprio, e poi proprio 460 yen, stanno messi proprio male, Ciao vegano, ciao, carotino, 100%, olio di palma, ah, che cose sempre spettacolari, e non mi vuoi dire che non pensavi a fare una bella serata con un moscato in lattina, Ciao, la morte del vino italiano, guarda qua, c'è la miseria, vabbè, dico che potrà sapere pure buono sto coso, ma sinceramente, vino italiano in lattina anche no, no 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 Grazie Grazie C'è stampato tutto qua dentro Carte, 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 tutti i modi, tutte le maniere, tutte le cose Viva Yu-Gi-Oh! E la sessione pure, come dicevo prima Mi ho scoperto questa sezione, c'è una sezione dentro a Bukhoff dove vengono venduti Manga vecchi, vecchi anche di una ventina d'anni, a 100 yen l'uno Ci credono molti di noi che non hanno anche l'esistenza di alcuni di questi Viene indicato dal numero 62 al numero 70 Sono dal 2300 yen One piece Sì Ma a me ti viene malapporso quando il mouse è compiuto e perciò Come cosa migliore deve appoggiare il mouse Il mouse e soprattutto il tuo polso Poi giri così e trovi ste robe Questo c'ha l'ingresso per i flop in sto computer Ma quanti anni avrà sto computer? Voi non avete un'idea? Incredibile Aiuto ragazzi ho bisogno di una mano, un consiglio Il titolo Che titoli uso con The My Life Ma c'è troppa roba che io registro Non lo so Come mi devo muovere con i titoli Eccoci qua Questa è una cosa dei più spettacolari Che Mi sono preso l'abitudine qua in Giappone Questo è un periodo invernale adesso Verdure, carne Facciamo questo bel hot pot Sono in soggiorno Guardate come ho cucinino da campo Cioè E' una cosa che molti Giapponi si usano Non è proprio la massima sicurezza Però Ci permette di Probare la cosa da mangiare E godercela Guardando la televisione Ciarato